Sì, ma frate, non è roba per voi, cioè... Ma che è che non è roba per noi? Come è roba per noi, scusa, ma chi? Ma di cosa è arrivato? Ma avete 17 anni, dove stai andando? Ma nemmeno 20? Ah, Stefano, dove stai andando? No, è roba per me, non è roba per voi Però è filianzato, ora Vabbè, ma si può lasciare, non è che si sposa Allora, io dico Francesco, Giulia Pausselli e Elena Terza, Elena non puoi metterla, però, si cozzi Fatelo Giulia Pausselli, però, che fisico c'ha Elena è la prima intoccabile Fra, manco se arriva Jennifer Lopez Elena è la prima, non puoi dire A, B, C Ma tu Francesco l'hai vista Francesco è poesia Dunque, io Elena E poi? Vabbè, poi Elena non si muove da lì, vabbè Vabbè, ok, abbiamo capito Francesco, forse Come forse, fra No Fatelo, tu non ne capisci di per me Ma che c***o dici, ma Se dici così, non ne capisci, forse Ma forse, perché sono indeciso, scusa Ma tra chi? Non ne capisci, ma Ma, 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 ma